Ancora ritardi, ancora attese per il dragaggio, soprattutto per la soluzione dell'inquinamento del porto di Pescara. Continuano ad esserci riunioni, ma intanto balneatori e tutta la categoria che con la stagione estiva trova lavoro si trova in grandissima difficoltà. Il centrodestra continua a ripetere quelle che sono mancanze e soprattutto ritardi. Ricordo una dichiarazione del Presidente della Regione che dicembre dell'anno scorso aveva detto apriremo la diga. È passato più di un anno, la diga non è stata aperta, chiaramente i lavori inizieranno dopo l'estate, come è anche naturale che sia, perché in piena stagione estiva movimentare le acque del fiume non farebbe bene alla balneazione. Resta un'altra stagione fortemente in difficoltà, speriamo che non vi siano dati di inquinamento. Credo che sia un errore non denunciarli perché oltre che giustamente la categoria che vive sull'estate, credo che ci sia la salute dei cittadini che sia un principio ancora superiore. Spiace che ci sia un sindaco totalmente assente, che non si rende conto che per Pescara i 3-4 mesi estivi sono il momento più importante dell'anno, noi non possiamo che sottolineare questi continui ritardi. Prima hanno portato in aula una delibera per un atto di indirizzo su dove fare un nuovo depuratore, poi si è capito che questo nuovo depuratore non serviva a Pescara che ha il suo depuratore, tra l'altro con dei lavori già appaltati di potenziamento. Allora non è più un depuratore, è una grande vasca di decantazione delle acque meteoriche, però non avevano neanche la sensibilità di rimanere in aula per votarlo. Questo è un atteggiamento ingiustificabile per il centro-sinistra che governa male questa città da tre anni e che mette con questi atteggiamenti sempre più in difficoltà anche la fiducia delle categorie dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale.